Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPILI dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 3700 in direzione Livorno si registrano due chilometri di coda tra Firenze Viadotto all'Indiano e la Strassigna. In direzione Firenze invece a causa del traffico intenso rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Sulla 1 panoramica si ricorda che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Cantieri di Firenze da domani 28 gennaio fino al 27 aprile per lavori edili via Barni rimarrà chiusa nel tratto da via Moschi a via Martellini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!